Vincenzo Galluzzo, una vera e propria boccata d'ossigeno? Eh sì, non vincevamo da un pezzetto, è stato un anno difficile ed è un anno difficile. Abbiamo messo dono i giocatori, stiamo provando a giocare per divertirci e ci è andata male per un po'. Oggi era uno sconto diretto per non restare proprio sul fondo fondo, è andata bene. Comunque la cosa più bella è il clima, sicuramente non di tensione ma scherzoso, soprattutto nel primo tempo ovviamente. Guarda, il nostro nome, l'ultima parola del nostro nome è 1996, sono 21 anni, chi più chi meno. Lo spirito è quello dal 96, divertirci, quando si può si vince, quando non si può si va a cena come stiamo per fare comunque. E lo spirito è quello. Poi se come l'anno scorso si poteva stare più in alte classifiche era meglio. Cos'è? C'è stato qualcosa che non è andato? Ma guarda, qualcuno ha smesso, qualcuno ha un anno in più, penso tutti. Quindi è naturale dopo un po' calare, un po' qualche giocatore nuovo che si deve ancora ambientare. Però lo spirito è quello di andare a cena, adesso dopo una sana partita e una sana corsa. Io sto in porta, però lo spirito è la squadra. Quella è la cosa principale. Va bene, allora buon proseguo del campionato. Grazie. 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 Ciao.